Sta per partire il piano operativo della Regione Calabria per contrastare l'emergenza coronavirus. Questa sera in cittadella regionale, alla presenza del Presidente Iole Santelli, il Direttore Generale di Tutela della Salute Antonio Belcastro ha illustrato ai vertici di ASP e di aziende ospedaliere come sarà affrontata l'emergenza Covid-19. Il piano è strutturato in tre fasi. La prima prevede la sospensione dei ricoveri non urgenti in tutti gli ospedali calabresi e la contestuale rimodulazione dei posti letto. Saranno incrementati quelli di terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia. Dopodiché si procederà all'individuazione dei cosiddetti ospedali anti-Covid, cioè strutture già esistenti con dotazioni tecnologiche che si occuperanno di trattare i casi di coronavirus. E infine la terza fase ipotetica è l'individuazione di strutture per quarantenne generalizzate. Prevede una serie di misure che abbiamo condiviso questa sera con le aziende sanitarie ospedaliere che alcune di queste sono già in atto, ovviamente quelle che abbiamo già preso per i primi casi, quelli sporadici, altre contengono quelle per i casi che si stanno verificando adesso, insomma sono meno sporadici. Purtroppo per fortuna sempre da contagio di persone che provengono da quelle zone, dalla Lombardia o dalle quattordici province e poi prevede un primo step, una prima fase, prevede una rimodulazione dei posti letto all'interno degli ospedali che privilegierà in questo momento le terapie intensive, quindi le rianimazioni, le pneumologie e le malattie infettive. Questo non andrà a detrimento delle altre unità operative ma sarà anche la logica conseguenza di un provvedimento di rimodulazione delle attività di ricovero in cui saranno magari privilegiate quelle urgenti ovviamente e per un periodo seppur breve dilazionate, dilazionate quelle di programmabili, quindi quelle differibili e non urgenti, quindi ricoveri in elezione. Da qui ricaveremo più posti letto, saranno disponibili per l'eventualità, quindi qualora fossero necessari, dovessero rendersi necessari posti letto per la pneumologia, alcune di queste diventeranno delle vere e proprie subintensive, per le malattie infettive e abbiamo ritrovato anche circa 50 posti letto nelle attuali rianimazioni, nelle attuali 11 rianimazioni. Questa è la prima fase del programma. La seconda fase prevede l'individuazione attraverso la condivisione con le aziende sanitarie di uno o più ospedali covid nelle varie aree, quindi nelle 5 aspo, nelle 5 province, ospedali covid che sono caratterizzati dal fatto che sono ospedali già funzionanti, quindi con laboratori di diagnostica, di analisi e di radiologia, con letti che possono essere già utilizzati per ospitare corte di pazienti positivi. E poi la terza fase, alla quale noi speriamo di non arrivare né alla seconda né alla terza, ma ci dobbiamo preparare all'individuazione di strutture ricettive. La Presidente si è già mostra interessando anche l'Agenzia per i beni confiscati per vedere se ci sono beni e strutture ricettive di questa tipologia, ma anche ex ospedali, magari attualmente chiusi, però che in pochissimo tempo possono essere messi nelle condizioni di ospitare eventuali quarantene generalizzate.